Messina è sempre più attiva nello sviluppo di competenze tecnologiche. Investire idee e risorse nella trasformazione digitale è indispensabile per guardare al futuro, sfruttando le enormi potenzialità della tecnologia. Dalle esperienze maturate in Anci Lombardia e nei comuni di Monza e Brescia, nasce Digipro, una buona pratica che ha alla base il riuso di metodologie e tecnologie dove competenza e capacità organizzativa lavorano in piena sinergia. Grazie a Messina, una rete di 14 enti ha deciso di unire le forze per affrontare la sfida dell'innovazione e della legalità, perché solo insieme si migliora e si cresce. Con Digipro il comune diventa smart tramite una piattaforma composta da 5 moduli. Il portale del cittadino, la scrivania virtuale, il sistema documentale, il motore dei processi e il kit anticorruzione. Ogni ente ridefinisce i suoi processi mettendo al centro i dati, semplifica le procedure, migliora qualità e trasparenza dei servizi destinati a cittadini e imprese. Il comune di Messina, anche attraverso il suo nuovo hub tecnologico, raccoglie la sfida come ente promotore della rete e offre in reuso gli strumenti Digipro a tutti i comuni italiani. Digipro, insieme per innovare.